Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo dedica l'8 marzo alle donne ucraine in fugo dal proprio paese, ma anche a quelle che in Russia stanno manifestando contro la guerra. Aree interne, sì unanime ad agevolazioni contributive, approvata la proposta di legge al Parlamento, primo firmatario Marco Nicolai del Partito Democratico. Approvata all'unanimità la proposta di legge sulla formazione professionale del personale sanitario riguardo all'utilizzo dei farmaci cannabinoidi, illustrata da Enrico Sostegni con primo firmatario Jacopo Melio. Da questa giornata vorremmo che partisse proprio un messaggio positivo di speranza e futuro, rappresentato dalle storie di otto donne che nell'ultimo anno hanno raggiunto grandi traguardi e ho contribuito a raggiungerli. Così il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha aperto al Teatro della Compagnia di Firenze l'evento 8 donne toscane per l'8 marzo. Le donne toscane, celebrate davanti a numerosi studenti della Toscana, sono personalità della scienza, della cultura, dello sport, lavoratrici e attiviste. Mazzeo ha voluto dedicare in particolare questa giornata alle donne ucraine, donne straziate dal dolore e, ha detto, strappate dalle loro vite e dalle loro case, separate dai loro affetti, donne in fuga, unendola in un ponte ideale anche alle tante donne russe che in queste ore si stanno ribellando alla guerra. Abbiamo voluto dedicare questa giornata dell'8 marzo alle donne ucraine che stanno resistendo ma anche alle donne russe che combattono e vengono arrestate per la pace. Lo abbiamo voluto fare per anche dare un messaggio, un messaggio di speranza e di futuro premiando otto donne che sono state in prima linea nelle battaglie, penso per la tenuta dei posti di lavoro ma anche per far in modo che la nostra terra diventi sempre più terra di scienza, terra di opportunità, terra di futuro. Vogliamo mandare un messaggio forte che questa non è straordinarietà, dovrebbe diventare la normalità ed è questo il lavoro che noi come istituzioni vogliamo fare per cercare ogni giorno di dare più speranza e un futuro migliore alle tante ragazze che vivono la nostra terra. È un'iniziativa che il Consiglio regionale fa all'ufficio di presidenza per promuovere otto donne, otto esperienze straordinarie nel giorno dell'8 marzo per la loro intelligenza, competenza, per la loro intuizione, per il loro lavoro. Però personalmente il pensiero va alle migliaia di donne che in queste ore stanno scappando dall'Ucraina con i loro figli e sono quelle sì dei veri eroi, delle persone che con la propria vita provano a mettere in salvo la vita dei loro figli. Sono tante donne che nel contempo stanno anche restando, stanno combattendo per la libertà del proprio paese. Quindi il pensiero essenzialmente in queste ore va a queste donne che sono veramente in prima linea. Molte di loro diventeranno profughi, molte di loro erano laureate, lavoravano, avevano una competenza della sera alla mattina per la violenza dell'azione militare della Russia. Oggi si trovano a essere delle donne profughi. Da parte nostra tutto il sostegno possibile a quelle che diventeranno delle nuove eroine, nuove persone che riusciranno magari a salvare la propria vita. Ancora una volta il Consiglio regionale si apre al mondo esterno. L'8 marzo è la festa della donna. 8 donne per raccontare esperienze, eccellenze della nostra Toscana. Lasciatemi dire che mai come oggi è importante quella sfida affascinante che diceva Oriana Fallaci, quella di essere donna in questo mondo che è in preda a una pazzia, a una follia. Noi diciamo insieme con le donne stop alla guerra. È questo che ci viene da dire. Le nostre donne, le nostre compagne, le nostre madri sono ancora più importanti accanto a noi. Estendere anche ai comuni ricompresi nella mappatura aree interne le agevolazioni contributive previste dall'articolo 27 del Decreto Legge 14 agosto 2020 numero 104 per i territori svantaggiati. Questo lo scopo della proposta di legge al Parlamento con primo firmatario Marco Nicolai del Partito Democratico, illustrata in aula da Elara Bugetti, presidente della Commissione Sviluppo Economico e votata all'unanimità con 37 voti favorevoli. Noi siamo consapevoli che chi investe e crea lavoro nelle aree interne, cioè le aree montane, le isole, le aree più periferiche, sostiene costi maggiori rispetto a un'impresa ubicata in altri territori. E sappiamo anche, e ce lo dicono i dati del reddito pro capite, che il comune con il reddito pro capite più basso in Italia è sulle Alpi, così come in Toscana e in Lunigiana. Noi abbiamo da colmare questa diseguaglianza, non solo tra nord e sud, ma fra aree urbane e zone periferiche. Questa misura va nell'ottica di far operare un intervento che nelle zone del sud dove è stata applicata ha prodotto in sei mesi più di 500 mila posti di lavoro in più. La decontribuzione, il taglio del 30% per gli imprenditori che assumono nelle aree interne e montane, quindi noi chiediamo che appunto questa misura venga estesa a tutte le aree interne del centro nord. Il progetto è interessante, il fine è quello che noi ci siamo posti come obiettivo in campagna elettorale, consentire alle persone che vivono nelle aree interne di avere le stesse opportunità delle persone che vivono nelle grandi aree metropolitane. È una questione di rispetto reciproco, è una questione di compensazione economica, non sempre vivendo nelle aree interne della Toscana si hanno le stesse opportunità di chi vive in una grande città. Per fare questo cosa serve? Servono investimenti, servono infrastrutture, ma serve anche una politica fiscale perequativa che possa compensare questo disagio. Questo è il fine ultimo della proposta di legge, serve una misura importante nazionale che vada a rivedere, definire, classificare quelle che sono aree non tanto svantaggiate, ma quanto interne e come tale hanno meno opportunità rispetto a quelle delle grandi città o quelle che hanno grandi linee di comunicazione. Facendo questo riusciremo ad ottenere quello che per noi è oggi un impegno politico di fare in modo che il Parlamento approvi una legge su iniziativa delle regioni. Questo non si è mai verificato nella storia legislativa del Parlamento, è una delle funzioni previste e quindi mi auguro che il testo possa arrivare in fondo dato che oggi c'è un governo che sembra anche a parole sensibile a questo tema. L'emergenza Covid ha evidenziato ancora di più il problema dello spopolamento delle cosiddette aree interne, a cui aggiungo insulari e montane, perché in queste zone se non si fa qualcosa di veramente concreto si rischia che lo spopolamento continui. Invece noi non bisogna non solo fermarlo, ma bisogna fare in modo che si ripopolino ancora di più. E l'unico modo che può la regione chiedere è chiedere al Parlamento, perché la fiscalità dipende dallo Stato. E quindi, siccome è stato fatto qualcosa per le aree del sud, noi chiediamo che anche le aree del centro-nord abbiano lo stesso vantaggio. È una proposta di legge che, dopo chiaramente gli approfondimenti in commissione aree interne, il gruppo di Fratelli d'Italia ha appoggiato convintamente un tentativo di dare respiro sostanzialmente a quei datori di lavoro in riferimento chiaramente alle contribuzioni che sono dovute all'erario, che metterebbe in condizione di prolungare sostanzialmente questa possibilità per un periodo molto lungo, addirittura parliamo del 2029, con uno scaglionamento delle risorse che comunque sono importanti. L'abbiamo ritenuto, oltremodo, valida questa prospettiva, legandola sostanzialmente a quelle altre misure che nell'ultima cronaca recente del Consiglio regionale hanno riportato al centro, finalmente dal punto di vista sostanziale, le aree interne. La fiscalità di vantaggio sicuramente non è la risoluzione del problema dello spopolamento. Più volte abbiamo sollevato, anche all'interno della commissione aree interne, la questione che si può risolvere in maniera concreta soltanto dotando di infrastrutture fisiche, digitali, servizi per quanto riguarda la sanità, le scuole, queste aree, e renderle vivibili come il resto della Toscana. Però sicuramente intanto riesce a porre un piccolo rimedio a uno dei problemi, che è quello appunto della fiscalità e del lavoro. Quindi sicuramente è da accogliere in modo positivo, senza dimenticare però che gli obiettivi, quelli veri, si raggiungono con un intervento ben più massiccio, soprattutto con una programmazione e pianificazione attenta. Promuovere un'adeguata formazione sull'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte del personale dipendente o convenzionato del sistema sanitario regionale. Questo l'obiettivo della legge, approvate in aula all'unanimità, illustrata dal presidente della commissione sanità Enrico Sostegni, è nata su proposta del consigliere Jacopo Melio. C'è stato un lavoro importante in commissione che è partito da un dato, cioè la Toscana è stata la prima regione a usare, a permettere l'uso medico dei farmaci a base di cannabinoidi, ciò nonostante c'è necessità di una maggiore diffusione intanto della conoscenza, delle modalità prescrittive e quindi con questa norma, che abbiamo approvato in Consiglio regionale all'unanimità, si va a dire che si devono inserire, che si dovrebbero inserire, che è bene che si inseriscano nei piani di formazione del personale del sistema sanitario regionale, dipendenti e convenzionati, quindi anche medici di base, tutta una parte di conoscenza sull'uso e le modalità prescrittive di questa tipologia di farmaci, per diffonderne l'utilizzo laddove è necessario. Il Consiglio regionale ha risposto in maniera estremamente positiva, votando all'unanimità questa proposta di legge, che andrà ad inserire all'interno nel percorso di formazione continua, offerto dalla regione, ai medici di base, un percorso di preparazione sui medicinali cannabinoidi, e quindi si va a combattere quelle remore culturali che al colonio purtroppo impedivano la somministrazione di quello che è un vero e proprio farmaco salvavita a migliaia di sottoline e di sottoline che potranno così trarre un enorme beneficio da questo principio attivo. È stata attuata una politica importante che porta alla conoscenza, allo sviluppo, alla sensibilizzazione dell'utilizzo della cannabis per fini terapeutici. Noi sappiamo che il dolore di per sé è un alert nel corpo delle persone, non si deve convivere con il dolore, il dolore è una spia che quando si accende ti dà un segnale se si può sopperire al dolore, lo si può utilizzare per fini terapeutici. La cannabis è importante farlo, serve cultura, serve formazione, serve che il personale ne abbia consapevolezza non soltanto nell'accessione cosiddetta del fine vita ma anche nell'accessione dell'utilizzo durante le patologie all'interno, prima nelle fasi appunto terapeutiche una volta individuata una diagnosi che viene accertata. Abbiamo sostanzialmente dibattuto in termini abbastanza precisi cioè la cannabis per scopi terapeutici. Scopi terapeutici è una parte che molto spesso adesso non viene utilizzata per una certa titubanza, per una certa sorta di mancanza di cultura, di cultura medica riguardo a questo presidio. Invece purtroppo ce n'è bisogno in quanto ovviamente la cannabis può essere utilizzata in quelle forme di sla, in quelle forme di cure palliative che molto spesso aiutano persone che soffrono veramente molto. La proposta di legge che oggi il Consiglio regionale ha approvato su una proposta di cui il primo firmatario Jacopo Melio va nella direzione di accrescere la formazione nei confronti del personale sanitario toscano proprio rispetto appunto alle prerogative e alla importanza di utilizzo della cannabis medica. Molti medici non sono consapevolmente aggiornati su questa tematica, non sono diciamo tecnicamente appunto aggiornati su questa tematica quindi è giusto che il sistema sanitario regionale si metta in pari e preveda appunto un aggiornamento nei confronti del personale sanitario. Bisogna abbandonare una volta per tutte quelle manipolazioni, quelle strumentazioni che vengono fatte ogni volta che si parla di cannabis. L'utilizzo terapeutico della cannabis è una delle soluzioni per alcune persone, forse l'unica per riuscire ad alleviare dolori o comunque sia lenire problemi di natura sanitaria che essi hanno. Quindi formare il personale a un utilizzo attento e soprattutto alternativo alle normali principi farmacologici è sicuramente da promuoversi. Grazie a tutti.